Quanti e quali saranno gli ospedali di secondo livello, quelli più completi e attrezzati? Che fine faranno i presidi ospedalieri minori? Quanti e quali reparti, specializzazioni, pronto soccorso, da sopprimere, accorpare e depotenziare? Sono tante le incognite del piano di riordino sanitario previsto anche in Abruzzo dal decreto Lorenzin. Incognite su cui le opposizioni intendono fare chiarezza una volta per tutte la materia di competenza del commissario straordinario della sanità, Luciano D'Alfonso, il presidente della regione e tutto al più dell'assessore regionale della sanità, Silvio Palucci. Vengono a riferire in aula, spiegano agli abruzzesi cosa stanno decidendo, tuona forse Italia e anche il Movimento 5 Stelle. Ma D'Alfonso e Palucci non è detto che in Consiglio scoprano tutte le carte, anche perché fervono in queste settimane le trattative a Roma per allentare i rigidi criteri imposti dal decreto e ancora nulla è stato davvero deciso. Il nostro obiettivo è conoscere quali sono le intenzioni del governo regionale in tema di sanità, sapendo che c'è un rischio enorme per quanto riguarda la nostra sanità se supinamente si dovesse aderire al decreto Renzi-Lorenzin. A maggior ragione nel caso in cui le altre regioni italiane invece non dovessero farle, in particolare le Marche, magari rimandarlo nel tempo. Questo creerebbe anche grandi problemi non solo per le aree interne quindi, ma anche per la mobilità passiva, perché questo incrementerebbe la mobilità passiva. Però vorremmo sapere, vogliamo sapere per esempio se l'Abruzzo ha l'ambizione di avere degli ospedali di livello qualitativo alto? La questione riguarda tutti naturalmente che parliamo di sanità, che è la materia tra le più importanti se non la più importante della nostra regione, ma anche delle altre regioni. Sicuramente c'è un ragionamento che sta portando avanti l'assessore Paolucci e il commissario D'Alfonso sul fatto che praticamente si aspettano ancora dei dettagli specifici del Ministero, che il prossimo 15 ottobre ci sarà un tavolo nazionale di confronto dove avremo modo di capire meglio come procedere e quando procedere.